Il motivo di questi viaggi a vuoto sta nel fatto che da lunedì 10 aprile le raccomandate inesitate per le quali il postino vi lascia l'avviso nella buchetta delle lettere non sono più in deposito nell'ufficio di Viale Piceno, ma potranno essere ritirate nell'ufficio postale più vicino alla propria abitazione. Il luogo dove ritirare la raccomandata è indicato nell'avviso lasciato dal portalettere, ma l'inghippo sta nel fatto che molti non ci fanno caso, dando per scontato che, come ormai avviene da molto tempo, si debba venire qui in Viale Piceno. Eh sì, torno indietro a saperlo, abitavo proprio là, quindi devo tornare giù. Però è comodo in futuro questo tipo di servizio? Se si sa, se si è al corrente, certo. Molti utenti in passato si erano lamentati per questo accentramento del servizio inesitate, così lontano, scomodo, soprattutto per anziani o persone senza auto. ora il problema è risolto, solo che manca l'informazione ed il cartello sulla porta dell'ufficio qui in Viale Piceno non serve poi a molto, dato che se lo si è letto vuol dire che si è arrivati sin qui. Per cui, almeno per ora, comodità, bye bye. Sono venuto direttamente qui, tra l'altro ho anche programmato la mattinata per passare qui, adesso devo rifare tutto il giro un'altra volta, andrò in Via Roma. Però se fosse stato un avviso, uno non si ritroverebbe adesso ad andare in due posti. Quindi ricordate, se il postino vi lascia l'avviso per il ritiro di una raccomandata o di qualcos'altro, occhio all'ufficio dove andare.